Grazie a tutti. 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 Benvenuti a Genova che è qui di passaggio e buon ferragosto a tutti ovviamente. Per agosto molto caldo oggi, adesso prenderemo un po' di aria fresca, saremo un pochino meglio, in barca sicuramente si soffre meno il caldo. Siamo nella zona più antica del porto genovese. Come molti di voi sanno l'acquario qui a lato, il famosissimo acquario di Genova, nato negli anni 90, pensate che questi moli, queste banchine che abbiamo tutte intorno, risalgono al periodo medievale, anzi romano. Già i romani usavano questa insenatura per i loro eserciti per andare e venire dal Mediterraneo e al nord Italia. Ma fino a pochi decenni fa, fino agli anni 80, qui arrivavano navi a scaricare merci. È sempre stato così questo luogo. E negli anni 90, Renzo Piano, abbiamo visto la bolla, la sfera di Renzo Piano, l'abbiamo vista poco fa, sulla vostra a destra. Ebbene, il Renzo Piano, grande architetto, ha dato un'idea e negli anni 90 è nato il porto antico, così attivo, vivace, turistico come lo vediamo adesso. Sulla vostra a sinistra il magazzino del cotone con degli oddi lusso, di personaggi anche molto conosciuti e famosi. importante luogo per il ricreativo e turistico di Genova. Qui è nato il jeans, lo sapete ormai tutti, no? Che è il jeans, il blue jeans, il blue de jean. È nato proprio questi magazzini, il tessuto famoso di tutto il mondo che noi indossiamo. E sulla vostra destra, appunto, le grandi navi da crocire della MSC. E dicevo appunto che finalmente siamo riusciti a riproparci il nostro porto, il nostro antico porto. Negli anni 90 questo grande cambiamento, non si poteva passeggiare prima, prendere un gelato, fare un giro qui e adesso invece è possibile. È stato un vantaggio enorme, un grande cambiamento per la città negli anni 90 con la nascita appunto dell'acquario e tutto quello che abbiamo intorno. La MSC ha inaugurato la nuova ammiraglia, la nuova grande nave del MSC che tra l'altro mi sembra che sia in partenza tra l'altro, però pochissimo. La seashore è stata inaugurata in questi giorni praticamente il primo giro crocieristico, il primo tour di crocieristico che sta facendo da partenza da Genova proprio oggi. E' la nuova grande ammiraglia, siete fortunati a vedere la prima volta questa grande nave, la più grande nave da crociera che c'è in Mediterraneo in questo momento. Ed è arrivato già da Ponte dei Mille dove c'è la statua bianca, la vedete la statua bianca a lato? Da lì si partiva per andare a New York con le navi a Buenos Aires e da lì dunque sono partiti i migliori e migliori di italiani. La statua ricorda i nostri emigranti, i migliori di italiani che hanno lasciato l'Italia per trovare fortuna nell'altra parte dell'oceano. Molte le famiglie famosissime nel cinema della musica, De Niro DiCaprio, Madonna, Stallone, Sinatra, i maziosi, sono partiti tutti da quel moro. Poi abbiamo anche la zona invece dei Feri Bon Termina dove passano e arrivano i Traghessi per le nostre isole Sicilia, Sardegna, Stigioni ma anche la Nord Africa, anche la Spagna, anche altre località in Mediterraneo. Genova è sempre stata collegata a ogni loro qualità del Mediterraneo fin dai tempi passati. E qua davanti a voi inizia invece la zona vera e propria del porto, la zona commerciale, si capisce con i container, grandi navi portacontainers, questa non è neanche delle più grandi. Ce ne sono anche gli più grandi di questa che arrivano però nella zona nuova del porto, qui non potrebbero neanche entrare. Nella zona nuova del porto di Genova che è quella di Voltri, il nuovo porto di Voltri. Nella parte invece, lato sinistro, c'è la zona, tutta la zona molto grande delle riparazioni navali, dove vengono riparate tutti i tipi di navi, anche molto grandi, e con i bacini di Canerangio, sono delle grandi vasche dove viene tolta l'acqua, scusate, i suoi navi possono essere messe in sicurezza, ma l'attenzione di ogni genere, anche nelle parti sommersi. Mi diceva appunto del porto di Genova, che è uno dei più grandi e importanti del Mediterraneo, di lungo 15 km, ed è importante perché qui arrivano 2.800.000 container salanno, stavolta, e la regione che scusa, come ad esempio le materie chimiche, che stivate proprio in questi silo palato, pericolosissime, sono materie anche esplosive, tossiche, non starete alle case apposta, ma più importanti per la nostra industria clinica. Il porto di Genova, insomma, è importante per la nostra economia. Il 30% dell'import-export italiano tratti da questi mori, molte le materie prime che servono all'industria italiana del nord, della Lombardia, le cellulose, i legnami, i metalli, gli alimentari, il cacao, il caffè, la farina, il riso, il mais, i zuccheri, insomma, tanto e tanto per la stessa questi mori, proprio per tutti noi, per la nostra industria, per la nostra economia. Ci tengo a dirlo, insomma, è di lungo 15 km questo porto, è importante, è strategico per tutti noi, non solo per Genova, insomma. Davanti a voi il muro, davanti al mare, sul mare, è quello della Liga Polaneo. È un muro che stiene per dipendere sulle onde del mare, e qui soffiano, ci sono 20 che soffiano, che portano onde molto alte, ed è lungo quanto il porto, la Liga Polaneo è lunga 15 km, un muro sul mare, una fondale di 20-30 metri, lungo 15 km. Un'opera che è stata veramente molto, molto ciclopica, insomma, pesante da realizzare. E tutto il messaggio arrivava laggiù in fondo, dalle colline, dalle case. Tutto quello che vedete qui davanti a voi fu creato negli anni 50. Questo è il più grande riempimento a mare, uno dei più grandi, scusate, è un altro conto, è solo km quadrati di spazio rubato al mare. Gli abitanti non furono contenti nemmeno qua di vedersi privare del mare, ma il porto sicuro andiva sempre di più, si allargava, si allungava. Qui è nata la più grande industria siderurgica italiana, vita, sidre, ilva, poi diventa taceo, mittal. Qui si produceva acciaio nelle nostre industrie negli anni 60, un fiore all'occhiello del boom economico che abbiamo avuto, l'unico trovato. Poi abbiamo avuto una crisi a colpito duro a livello popazionale, pian piano gli acciaglieri hanno cominciato a ridurre, a chiudere. Oggi si produce pochissimo acciaio a Genova e questa nave che abbiamo alato scarica acciaio, i rotoli, che arriva da Taranto. Ora io gli ho messo la medaglia che qui almeno a livello ambientale abbiamo risolto il problema, perché anche qua la situazione era tragica negli anni 80-90. Se non l'altro adesso si respira, si vive meglio, non ci sono più problemi, diciamo, sanitari, dopodiché l'inquinamento è fortissimo. Il problema è che purtroppo è rimasto a Taranto, lo sappiamo benissimo, che a Taranto purtroppo il problema ancora persiste. Questi sono i rotoli che vengono prodotti a Taranto, qui dicevo. E il riempimento che abbiamo visto adesso continua per chilometri, perché davanti a voi c'è un aereo in partenza proprio in questo momento, c'è l'aeroporto di Genova che sul mare, tre chilometri di pista sul mare, hanno sbancato intere colline per fare questo aereo a porto sul mare. C'è il mare anche dall'altro lato della pista. E dall'altro lato, inoltre, questa è la zona industriale della città, ci sono importanti aziende a livello internazionale, famose a livello nazionale, la Fincantieri, che produce, fabbrica, grandi navi da crociera, ce n'è proprio una in costruzione adesso, c'è l'ansaldo, c'è il polo tecnologico, c'è l'aeropiaggio, produzione di aerei, insomma, molte piccole, grandi, medie aziende, cantieri navali, porto turistico, dove appunto i FIP di Mezzomondo portano il loro yacht, visto che l'aeroporto, insomma, di facilità, di collegamenti, e come se non bastasse, come se non bastasse, c'è anche il porto Petroli, dove arriva il petrolio, con le petroliere, insomma, una zona importantissima a livello industriale, come potete immaginare, e non solo per Genova, come vi dicevo. Il porto di Genova, comunque, non è finito qua, perché pensate, che davanti a voi, ad alcuni chilometri da qua, di fronte a voi, c'è la zona più importante del porto genovese, la zona nuova del termina di Voltri, porta containers di Voltri, dove arrivano le più grandi navi del mondo, con 50.000 contene il sole, e lì, insomma, ormai che si coinvolge il più del lavoro portuale genovese. Volevo concludere, raccontatevi qualcosa, invece, sul nostro mare, che molti di voi conoscono per le vacanze, per i bagni, per le spiagge, del Levante e del Ponente, ma questo mare, per chi non lo sapesse, è un mare che ha una bella storia alle sue spalle, perché perché i biologi ce lo raccontano tutti i giorni, è un ecosistema marino unico, infatti, tutto il Mar Ligure è zona protetta, riserva naturale, da molti anni, per i mammiferi marini, per i cetacei. Qua, insomma, sono protetti i delfini, le balene, e ce ne sono tante, di Capodogli, nel 1970, dell'Apriglia, dove le onde sono arrivate anche a 7-8 metri, c'è una nave, la targa bianca, sulla volta a sinistra, ricorda questa tragedia, c'è una nave che durante una tempesta, del 70, questa tempesta, andò a fondo, l'unepescampo, morirono 22 dell'equipaggio, a London Ballon, la menina di London Ballon, e ancora l'elitto è dietro, dalla viga dall'altro lato, affondato, con una tempesta, che è stata tra le più brutte bestie, da queste parti. Stiamo andando verso Polente, verso Ovest, dove si pone, dove tramonta il sole, levante, dove si neva, dove sorge, ad est, i gelovesi non si perdono mai, e abbiamo, davanti a noi, ma il fine, la sagoma della lanterna, del nostro simbolo, sul tuo di questa città, c'era, e poi sono andato, c'era una collina, molto alta, fino a un secolo fa, che andava, dalla lanterna, fino al battitore, quel crattacero, con la monta me, era una collina, che chiudeva la città, da ponente, ed è stata importantissima, nel passato, perché, era, le mura, le forni, insomma, è stata importantissima, la difesa, della città, per lungo tempo, dei tanti attacchi nemici, che ha subito questa città, e la collina, è stata rasa al suolo, completamente, per allargare la città, verso ponente, e non è rimasto nulla, della vecchia collina, di San Benigno, la lanterna, insomma, è rimasta un po' isolata, adesso, è cambiata molto la città, negli ultimi decenni, negli ultimi secoli, come vedremo dal mare, sotto la lanterna, c'è un luogo, chiamato Carata Sanità, che è un ospedale, insomma, un ospedale dove i marinai venivano messi in quarantena, perché le epidemie, non sono nate adesso, purtroppo viviamo un periodo, particolarmente pesante, brutto, ma nel passato, sono state molto peggio, le epidemie, sono state epidemie terrificanti, e gli genovesi, avendo capito che nei porti, non sono merci, ma anche epidemie, potevano arrivare, hanno creato un ospedale, di quarantena, per i marinai, che transitavano, nel 1348, arrivò una nave, dal Manero, qui a Genova, che portò la famosa epidemia, di peste nera, morirono 20 milioni, di europei, uno su tre, una delle tragedie, più grandi, che l'umanità, di quel periodo, abbia mai vissuto, dalla terra, ancora lì, nel 1547, come la vediamo adesso, ce n'era già una, un po' più piccola, nella scogliera, dove è nata, dopo l'anno 1000, ma questa che vediamo, è originalissima, di quegli anni, a parte la luce elettrica, ovviamente, ed è una delle più alte, più antiche del mondo, ed è stata sempre, l'orgoglio di questa città, perché quando fu costruita, non c'era nulla in giro, da nessuna parte, così alto, come questo faro, insomma, ma l'importanza, una lantenne, simbolo, della città, lo si deve, non solo alla sua luce, al fatto che sia, tra le più alte, più antiche del mondo, ma lo si deve, anche al fatto, che insieme alla collina, fu un formidabile sistema, di difesa della città, si poteva vedere dall'alto, ogni nave che arrivava, quando erano nemiche, si potevano avvisare, dicendo che si fa difendersi, o salvarsi, quegli nemici, ne sono arrivati veramente tanti, molti, troppi, e battaglie, in questi luoghi, sotto l'antena, ce ne sono state, veramente tanti, quindi un simbolo di libertà, un simbolo di indipendenza, ricordo che Genova è stata, una delle città, che ha avuto, il più lungo periodo di indipendenza, in assoluto, per 900 anni, una città stato, una repubblica marinara, una città libera, per lunghissimo tempo, orgogliosa di questo, che si è pensata orgogliosa, della sua storia, e la lanterna, il faro, rappresenta proprio l'orgoglio, la fierezza, l'intaprendenza, dei genovesi, che andavano appunto, ovunque, lungo il Mediterraneo, inoltre, la lanterna, è sempre stata anche, il limite della città, Genova, e era sempre stata, racchiusa, dell'insenatura, che abbiamo appena superato, qua, dove siamo adesso, si usciva dalla città, e si entrava in una zona, dove c'erano delle spiagge, questa era una spiaggia, questo fino a 100 anni fa, qua si veniva a fare i bagni, a prendere il sole, qua era pieno di mille giardini, qua era un paradiso, infatti, questa zona si chiama, San Pia d'Arena, viaggio di San Pietro, non dico altro, era una delle zone, più belle della Liguria, qui venivano in vacanza, nobili di tutta Europa, personaggi famosissimi, Bip, scrittori, poeti, scienziati, pittori, politici, dell'Ottocento, facevano le vacanze, in questo luogo, tutto cambiato, all'inizio del Novecento, quando la russa italiana aveva bisogno di uno scopo più importante, insomma, più importante nel Mediterraneo, ma soprattutto fu aperto su, in Egitto, si poteva andare facilmente in Asia, in Africa, in commercio mentale, e il ponte qui garantito, la spiaggia di San Pietro, nasconde arme completamente, gli abitanti qua, ebbero una, ebbero una, uno shock, per questo motivo, e, e furono grandi questi moni che abbiamo dato, da lato, che hanno denominato le colonie italiane di quel periodo, ponte Eritrea, ponte Somalia, ponte Etiopia, ponte Libia, si chiamano così, ancora adesso, da qui arrivavano, a partirevano i soldati, le armi per le nostre colonie, arrivavano le merci, bregiate, dalle nostre colonie, il caffè, lo zucchero, i legnami bregiati, la frutta esotica, tutti e so, e hanno mantenuto ancora adesso questi nomi, tutto cambiato in un secolo, completamente stravolto, direi, c'era comunque una città particolare, che i viti passaggio magari se ne saranno un po' accorto rispetto ad altre città italiane, ha un'anima, una cultura, una tradizione, una storia molto diversa, non può essere altrimenti, visto che i genovesi hanno navigato, sono andati ovunque nel Mediterraneo per secoli e secoli, e quindi, e quindi come dicono gli storici, non solo merci, ma qui transitarono uomini di ogni genere, di ogni etnia, e soprattutto culture, Genova ha messo in contatto il Mediterraneo con un'Italia in Nord Europa, Genova non è mai stato un porto, ma semmai una porta, nel vero senso della parola, di contatto tra due mondi molto lontani e diversi, e quindi, e quindi si vede, si vede da, anche dal dialetto, il dialetto genovese, ha tantissime parole bizantine, parole arabe, tante le parole arabe, nel dialetto genovese, spagnolo, portoghesi, francesi, di tutte le etnie mediterranee, qui venivano a lavorare, a cercare lavoro da ogni parte, mercanti, farignami, fabbri, marinai, insomma, e Genova accoglieva molti etnici per eccellenza, una città che ha fatto di questo mix incredibile di culture, la sua forza, la sua anima, la sua tradizione, insomma, la sola dei genovesi, in realtà, la sola di chi andava per mare, non lo sappiamo, e quindi una città che ha queste particolarità forche, si visibili, ancora adesso, nel centro storico, insomma, pensate che in questo non lo so già, non lo so già, non mi direi, una poeta come Dante Alighieri, perché nella Divina Commedia rischisse proprio i genovesi gente diversa, che vengano dispersi e rimise all'inferno, perché non poteva fare altro, chi è? Chi poteva comprenderli? personaggi, persone che avevano un mix incredibile di culture diverse e quindi incomprensibili per i contemporanei. Questo è un po' il geno, insomma, la sua anima, la sua tradizione, la sua cultura. Le canzoni di D'Andrea, chi l'ha ascoltato o comprende, le canzoni di D'Andrea descrivono molto bene, insomma, questa atmosfera di cui ho parlato adesso. sto par Turnare di D'Andrea, ero, adresi insomma in questa è la mia insomma, è andata con un po 저 toc till un po cosa a Gesù, il pur